Ben ritrovati ai conti in tasca, la nostra rubrica settimanale di approfondimento riservata ai temi dell'economia regionale, dell'economia, della società, del territorio, della nostra regione, dell'Abruzzo. È una puntata particolare questa perché interamente o quasi dedicata ad un report, un rapporto, un'analisi che annualmente viene pubblicata e diffusa dal Cresa che è appunto il centro studi dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Questo documento, questo rapporto dal titolo Economia e Società in Abruzzo lo vedete già in sovrimpressione nella sua copertina grazie alla regia di Francesco Di Carlo. Questa edizione, l'edizione 2023 dedicata all'analisi del contesto socio-economico abruzzese del scorso anno, del 2022, è giunto alla quattordicesima edizione. Economia e Società, come dice il titolo stesso di questo studio, perché prende in esame vari fattori, vari elementi, appunto dai dati e dai temi più prettamente economici a quelli di natura invece maggiormente socio-demografica, per tracciare un quadro, scattare una fotografia della nostra regione anno per anno. Dicevamo, l'edizione 2023 si riferisce ovviamente ai dati dello scorso anno e non ne viene fuori, anticipo questo, non ne viene fuori una realtà particolarmente florida, anzi, come dire, i motivi di riflessione, forse anche di preoccupazione in qualche caso, sono più di uno. Un quadro a tinte fosche, oserei dire, del grado di sviluppo socio-economico della nostra regione. Il rapporto è stato presentato, illustrato dal presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Mara Quaianni, e poi sviscerato nei dettagli, nei singoli elementi, in particolare dal direttore della stessa Agenzia per lo Sviluppo, Francesca Bocchi, e saranno loro, con i vari contributi che poi man mano durante questa puntata andremo ad ascoltare, saranno loro appunto a fare un po' un commento e a tracciare la traiettoria dell'economia abruzzese. Tanto per cominciare ci aiutiamo anche con delle grafiche, con delle slide che ci aiutano a fissare alcuni dati, alcuni punti principali della realtà economica appunto della regione, dell'Abruzzo, partendo proprio dal quadro macroeconomico del nostro territorio. La prima grafica che leggiamo e che illustriamo insieme si riferisce al, come vedete benissimo da voi, al PIL del 2022, un PIL che ha fatto segnare un incremento, una crescita, secondo l'indicatore ITER della Banca d'Italia, del 3,3% rispetto all'anno precedente, ma una crescita comunque inferiore rispetto alla media italiana, che invece ha toccato un più 3,7%, con una dinamica che si è progressivamente attenuata nel corso dell'anno. Aumentano anche i consumi, sono aumentati i consumi perché parliamo sempre dello scorso anno, del 2022, attestandosi ad un più 5,3%, ma con una dinamica in progressivo rallentamento. Per fotografare un po' questo quadro diamo anche conto delle stime elaborate dalla Svimez nel luglio di quest'anno, che ha registrato, o meglio ha previsto, una crescita in rallentamento per il 2023 del PIL abruzzese. Quindi un ulteriore rallentamento di intensità pari a quello delle regioni del Mezzogiorno. È leggermente inferiore, anche per quanto riguarda quest'anno, al resto dell'Italia. Infatti sentirete poi le conclusioni a cui arriveremo, che di fatto danno un abruzzo ormai quasi retrocesso nuovamente alle posizioni delle regioni meridionali. Allora, per commentare questo primo dato, quello del PIL e delle variabili macroeconomiche, ascoltiamo insieme il primo intervento del direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio, Gran Sasso d'Italia, Francesca Bocchi. L'Abruzzo è in fase di decelerazione. Questi sono dati provenienti dalla Banca d'Italia 2022. La crescita è più lenta, a volte anche rispetto al sud e alle isole. Secondo l'Istat, dati 2021, PIL e spesa per consumi delle famiglie pro capite, i dati risultavano superiori al solo mezzogiorno, ma con variazioni annue migliori rispetto al resto del Paese, quindi con una ripresa rispetto ai livelli del 2019. Lo Svimez, nel 2023, a luglio 2023, ha fatto uscire le proprie stime relative ai prossimi anni, che però fanno registrare un ulteriore rallentamento. Dunque, la dottoressa Bocchi ha confermato questo quadro introduttivo che abbiamo fatto insieme relativamente alla velocità, o meglio, alla minor velocità che è stata impressa all'economia regionale abruzzese lo scorso anno. Passiamo ad altri dati, perché adesso entriamo più nello specifico di singoli settori e incominciamo con l'analizzare il sistema delle imprese della nostra regione per capire appunto sul fronte delle aziende come vanno le cose, come sono andate nel 2022. La prossima slide, la prossima schermata ci aiuta proprio con questa analisi per capire quante imprese lo scorso anno sono state registrate in Abruzzo. La vediamo insieme. Le imprese attive nel 2022 sono state 126.648 nell'intera regione, in flessione in diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente e anche in questo caso la flessione è superiore rispetto alla media italiana, che è stata dello 0,7%, con un decremento che ha interessato in particolare le province di Pescara e Chieti, mentre al contrario quelle dell'Aquila e Teramo hanno riportato variazioni lievemente positive. Do un ulteriore approfondimento dicendo che sono soprattutto le imprese di servizi a mostrare numeri migliori grazie all'apporto principalmente delle attività professionali, professionali, scientifiche e tecniche, che hanno fatto segnare invece un aumento del 4,7%, di quelle immobiliari più 3,7% di agenzie di viaggio e servizi alle imprese. Invece lievissima contrazione del settore delle costruzioni, a cui tra un po' sarà dedicato un'analisi specifica, è del commercio che invece fa segnare un meno 3%, diminuiscono anche le attività agricole del meno 1,6% e c'è la flessione del manifatturiero. A proposito di manifatturiero possiamo vedere subito la prossima slide che è specifica proprio di questo settore. Dicevamo flessione ancora, perché è una flessione che si era già registrata negli anni precedenti, del manifatturiero con un meno 1,4% nel numero delle imprese, pari a 11.258, in questo caso decremento in tutte le regioni, tranne un lieve, lievissimo incremento debole in provincia di Teramo. Altro comparto, quello dell'artigianato, anche qui abbiamo da vedere insieme un'altra slide con i numeri relativi all'artigianato. Artigianato che fa registrare un incremento ancora superiore rispetto a quello del manifatturiero con meno 2,3% di imprese attive nel 2022, pari a 28.016 imprese artigianali. Meno 2,3% dato superiore, quindi maggiormente negativo rispetto al calo nazionale che si è attestato all'1,1% e quasi tutti i settori economici più rappresentativi hanno rilevato un calo. Proseguiamo anche con la grafica e i dati relativi all'agricoltura, settore primario per l'economia abruzzese, con un valore aggiunto in aumento 0,6%, migliore del meno 1,8% su base nazionale, ma un saldo commerciale agricolo che continua ad essere negativo con un meno 1,1% nel valore della produzione. E andiamo anche ad occuparci, per chiudere questa parentesi, sui vari settori del manifatturiero e del sistema delle imprese con l'edilizia, perché l'edilizia negli ultimi tempi è stato un settore trainante per la ripresa economica post-Covid, anche in virtù del super bonus che ha portato sicuramente incrementi di valore nelle imprese di costruzione abruzzesi. Cosa dicono i dati del 2022? Dicono un aumento del valore aggiunto su base annua del 9,1% in Abruzzo, dunque un buon risultato economico, ma comunque inferiore rispetto a quello del resto dell'Italia, che si è attestato al 10,2%, quindi un comparto, un settore agricolo più produttivo, più forte nel resto d'Italia rispetto all'Abruzzo. Nonostante però questo aumento del valore aggiunto c'è stato, lo vedete, lo abbiamo visto, lo possiamo rivedere ancora dal dato in grafica, invece una contrazione dei posti di lavoro, perché gli occupati, bene, si sono persi oltre 2.000 posti di lavoro in edilizia, attestandosi a 37.100 gli occupati rispetto ai 39.300 dell'anno precedente, quindi un dato in controtendenza che forse anticipa anche un po' la fine della bolla per molti dovuta al super bonus 110%. Allora, per commentare questi dati torniamo ancora ad ascoltare la voce della dottoressa Francesca Bocchi. Vediamo. In Abruzzo nel 2022 risultavano presenti iscritte, per la precisione, circa 126.000 imprese. Il numero diminuisce ed è pari a un meno 1,1%. Le flessioni più marcate si registrano nelle province di Chieti e di Pescara. Il numero delle imprese cresce solo nei servizi non commerciali e invece si rafforza la struttura delle imprese, nel senso che aumentano le imprese di capitali rispetto alle ditte individuali e le società di persone. Rispetto al settore manifatturiero, invece il rapporto cosa indica? C'è un calo del meno 1,4% con un aumento pur debolissimo per la sola provincia di Teramo e il manifatturiero fa registrare praticamente in tutti i settori o almeno un calo diffuso che riguarda prevalentemente elettronico, metallurgico, chimico e legno. Parliamo dell'artigianato, delle imprese artigiane. Ecco anche qui i dati cosa indicano? A fine 2021 in Abruzzo erano iscritte nell'artigianato circa 28.000 imprese con una diminuzione pari al 2,3% che è il doppio rispetto a quello dell'Italia che era 1,1%. La contrazione risulta in aumento, diciamo così il dato, nella sola provincia dell'Aquila anche qui debole aumento. La diminuzione ha interessato praticamente tutti i comparti con riferimento all'artigianato. L'agricoltura è l'altro settore importante per l'economia abruzzese e in questo caso qual è la situazione? Anche qui il 2022 ha fatto registrare un trend negativo. L'andamento complessivo non è positivo ma è migliore rispetto alla media nazionale ed è negativo il saldo commerciale, questa negatività ferma rispetto al passato. L'edilizia che è un settore che negli ultimi tempi comunque ha avuto spesso dati anche in controtendenza buoni dati, ovviamente l'impatto del Superbonus è una delle tante misure che ha favorito questo settore. Cosa emerge dal rapporto? Che il valore aggiunto ha sopravvanzato di 30 punti percentuali i dati del 2019 ma benché sia in aumento il numero di ore lavorate è in controtendenza il numero degli occupati che è calato. E dunque abbiamo riassunto questi dati legati al sistema delle imprese ma adesso apriamo un'altra pagina perché ci occupiamo di un altro comparto, il terziario, perché parliamo di commercio e di turismo. A proposito del commercio e vediamo insieme la prossima slide con i dati relativi al 2022 in Abruzzo le imprese attive sono diminuite del 3% come potete vedere anche qui come un po' per tutti gli altri dati una performance peggiore rispetto a quella dell'Italia del resto dell'Italia dove la flessione si è fermata al meno 2,3%. Stessa situazione, adesso vediamo invece dati un po' più articolati in un certo senso legati invece al turismo. Perché? Perché il movimento turistico della regione Abruzzo ha fatto registrare un forte recupero rispetto soprattutto all'anno precedente. Sono state 6,4 milioni le presenze, cioè le notti trascorse in Abruzzo da turisti nel 2022 con un bel balzo in avanti rispetto all'anno precedente più circa 23%, anno che già aveva fatto registrare un incremento notevole rispetto all'anno della pandemia del 2020 era stato l'incremento lo scorso anno del 29,5%. In questo caso gli aumenti hanno interessato tutte le province con la miglior performance che però è stata raggiunta dalla provincia dell'Aquila. Anche gli arrivi hanno messo a segno una rimonta rispetto all'anno precedente ma non tale, gli arrivi quindi il numero di persone che sono arrivate in visita in viaggio in Abruzzo per motivi di turismo ma non tali da recuperare i livelli prepandemici del 2019 e la permanenza media in regione è sostanzialmente rimasta la stessa passando da 3,9 a 4 notti. Il comparto, e lo sentiremo tra pochissimo anche nel commento e nell'analisi della direttrice Francesca Bocchi, il comparto rimane alimentato in Abruzzo soprattutto dal turismo interno perché l'85% circa dei turisti sono italiani con ancora una lieve dunque fetta di turisti stranieri che scelgono di trascorrere le loro vacanze in Abruzzo. E allora anche per quanto riguarda i dati, i numeri del commercio e del turismo sentiamo l'analisi della direttrice Francesca Bocchi. Nel 2022 in Abruzzo le imprese commerciali diminuiscono del 3% rispetto al livello, la percentuale nazionale è meno 2,3. Sono in diminuzione in tutto il territorio regionale e in tutti i comparti, tutte le attività economiche. Adesso parliamo del turismo, anche in questo caso è uno dei settori su cui si fa maggior leva per l'economia abruzzese. I dati cosa dicono? I dati dicono che nel 2022 in Abruzzo si sono registrate 6,4 milioni di presenze, cioè di notti con un aumento della componente estera. Però resta che l'Abruzzo attira prevalentemente turisti nazionali, italiani più che stranieri e gli arrivi non eguagliano i livelli pre-pandemici. Quindi questo è il quadro del turismo in Abruzzo in cui comunque le strutture alberghiere registrano aumenti più consistenti rispetto a quelle extra alberghiere. Tutto questo come si ripercuote, come si traduce nell'export, quindi negli scambi commerciali con l'estero? Allora l'export, come possiamo vedere anche in grafica, ha segnato un incremento nel 2022 del 2,1%, sempre rispetto all'anno precedente, ma guardate che differenza con il resto dell'Italia. L'Italia che ha fatto invece registrare davvero un balzo importante del 20% rispetto all'anno precedente nell'export. Diversificato l'andamento delle quattro province, l'Aquila segna il risultato migliore con un più 29%, seguita da Teramo con più 21,5%, molto più distanziata la provincia di Pescara con il più 3,3%, mentre è negativo il saldo dell'export della provincia di Chieti che fa segnare il 7,9% in meno. La maggior quota di export regionale è costituita dall'elettromeccanico e dall'elettronico che detiene il 56,2% del totale regionale dell'export. Mezzi di trasporto invece in calo e questo settore ha comportato sicuramente la flessione tendenziale del comparto con un meno 21,7%. Ma per ascoltare anche in questo caso analisi più dettagliate e dati più specifici settore per settore, torniamo anche di nuovo a sentire la direttrice Francesca Bocchi. C'è una ripresa, però è più lenta rispetto a quella nazionale. L'export ha segnato un più 2,1%, ma in Italia abbiamo registrato un più 20,1%, questo nel 2022, e quindi non sono stati recuperati i livelli del 2019. L'import aumenta del 16,2%, in Italia un più 36,4%. Sono state ottime le performance dell'Aquila e di Teramo, non altrettanto dicasi per le altre due province. Diminuisce l'export in Europa, aumenta quello verso l'America e l'Asia e il meccanico e l'elettronico hanno fatto registrare un più 56,2%, in Italia è stato un più 44%. Invece per quanto riguarda i mezzi di trasporto c'è stato un calo pesante, meno 12%. Il chimico farmaceutico ha rappresentato una buona percentuale, cioè un 23,4% rispetto al totale abruzzese, che ha una quota paritaria rispetto a quella nazionale, ma le vendite estere del Made in Italy riportano un più 24,3%, ma il peso sul totale è più basso rispetto a quello nazionale. Ci avviamo verso gli ultimi dati da commentare, ma sono dati molto molto importanti, innanzitutto perché riguardano il mercato del lavoro, ed è un mercato del lavoro in sofferenza in Abruzzo nel 2022, segni di difficoltà che vengono mostrati dai principali indicatori, guardateli, gli occupati sono diminuiti dello 0,3%, mentre i disoccupati sono aumentati dello 0,6% e questo è in netta controtendenza rispetto al resto dell'Italia, perché nel resto d'Italia gli occupati sono aumentati lo scorso anno del 2,4% e i disoccupati invece sono diminuiti del 14,3%. Sono numeri che pongono in apertura l'Abruzzo a livello delle regioni del Mezzogiorno, sono i dati migliori rispetto a quelli del Mezzogiorno, che quindi fanno dell'Abruzzo la prima regione del sud, ma peggiori di tutte quante le altre regioni del centro nord. E questo sulle dinamiche del mercato del lavoro, oltre alle difficoltà economiche dell'intera regione, incidono però anche i dati socio-demografici, perché è una popolazione che sta diminuendo quella abruzzese, che sta sempre più invecchiando, con una diminuzione di giovani, di forza lavoro e tutto ciò appunto si ripercuote anche nei numeri che abbiamo visto per un inquadramento migliore della situazione. Torniamo a sentire la direttrice Francesca Bocchi. Il mercato del lavoro mostra dei segni di difficoltà e questi segni sono anche rispetto all'anno prepandemico, sono peggiori rispetto al Mezzogiorno. Il fatto è questo, che rispetto al 2021 ci sono stati decrementi delle forze lavoro e degli occupati, con un aumento dei disoccupati. Si sono contratti lavoratori indipendenti, ha aumentato il numero dei lavoratori dipendenti. La situazione di andamenti decrescenti è ancora peggiore se si confrontano i dati del 2022 con quelli del 2019, in cui le variazioni sono peggiori rispetto a quelle registrate nel Mezzogiorno d'Italia. Su questi dati, sul mercato del lavoro in generale, incide anche il profilo sociodemografico della nostra regione? Indubbiamente sì, il profilo sociodemografico profila una regione in invecchiamento piuttosto marcato, quindi i giovani e i giovanissimi sono sempre meno, cala il numero dei giovani e dei giovanissimi. Aumenta l'invecchiamento della popolazione, il tasso naturale è in discesa e questo calo si registra decisamente molto marcato per le province dell'Aquila e di Chieti. C'è un aumento della componente migratoria rappresentata prevalentemente da donne e questo dimostra che la richiesta è di lavoro di cura fondamentalmente, quindi la richiesta di lavoro praticamente proviene più dal settore privato che non dal settore pubblico o meglio imprenditoriale e la riduzione della compagine giovanile della popolazione determina anche un grave vulnus per l'Abruzzo e quindi anche per lo sviluppo dell'Abruzzo e fa sì che l'Abruzzo insieme con il meridione d'Italia risulti la zona meno vivibile del paese. E dunque una situazione che preoccupa quella dell'Abruzzo, la tendenza socio-economica della nostra regione. Stiamo andando verso le conclusioni di questa ampia analisi dedicata al rapporto del Cresa Economia e Società in Abruzzo per chiudere appunto una riflessione breve, ultima sempre della direttrice dell'Agenzia per lo sviluppo Francesca Bocchi e poi sentiremo invece un'analisi un po' più ampia della Presidente Maracuaianni. Ma iniziamo quindi con le conclusioni di Francesca Bocchi. In conclusione per trarre una sintesi, un commento finale a questo quadro tratteggiato dove sta andando l'Abruzzo? L'Abruzzo a quanto emerge dai dati si avvicina sempre più al mezzogiorno, quindi si allontana diciamo così dal centro nord. Risulta in più di un'occasione la prima del mezzogiorno, la ma a giudicare dai dati a oggi appunto il trend sembra negativo, quindi di una decelerazione, di una difficoltà di ripresa e quindi di un progressivo rallentamento dell'economia abruzzese. E dunque queste considerazioni adesso sentirete fare il paio, diciamo così, con quelle della Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Maracuaianni, che è anche imprenditrice ed è Presidente al contempo di Federalberghi della provincia dell'Aquila. Infatti il suo sarà una conclusione, un commento anche particolarmente incentrato sul tema del turismo. Ascoltiamo Maracuaianni. La situazione non è una delle migliori. Come abbiamo già detto c'è diciamo un ritorno a mezzogiorno per causa di alcuni fattori che stanno incidendo su questo decremento e declassificazione della regione. Per cui parliamo già di turismo, io parlo di turismo perché sono direttamente interessata, essendo Presidente della Federalberghi della provincia dell'Aquila, quindi è un tasso che mi tocca in modo particolare e già nel 2023 rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un notevole decremento delle presenze nelle strutture sia alberghiere che extraalberghiere. Motivi ancora li dobbiamo andare a vedere, cioè per quale motivo si verificano questi fenomeni in Abruzzo. Poi come diceva anche la nostra direttrice, la natalità in Abruzzo sta cominciando a scendere, quindi siamo un paese anziano, diversamente giovane diciamo, per cui non c'è natalità. I giovani vanno via perché vanno via, ma non soltanto dall'Abruzzo è un fenomeno, questo che si sta verificando in tutta Italia, che cercano un lavoro altrove perché non c'è lavoro nel paese. Di conseguenza le industrie che arrivano e non si capisce perché queste industrie stanno un periodo di tempo e poi chiudono, quindi di conseguenza abbiamo tutti i fattori che ci faranno sicuramente tornare a un ritorno al mezzogiorno da quale eravamo usciti abbondantemente qualche anno fa. Quale potrebbe essere un modo per invertire la rotta? No, vabbè qua si tratta, non è una questione di invertire la rotta, qua è un problema a livello generale del paese, di governo, non siamo noi quelli che possiamo, noi possiamo dare delle idee, delle cose, però per sempre per il turismo ci vorrebbe una promozione non indifferente per quanto riguarda le zone interne, per quanto riguarda le zone costiere, quindi i monumenti, lo sport, cioè ci sono tante cose. Per quanto riguarda i giovani, e questo ovviamente è competenza del governo creare posti di lavoro e far sì che i giovani non vanno via dal paese ma restano nella regione, quindi non siamo noi a poter dare, a fare delle azioni perché sono superiori alle nostre facoltà. Questo insomma è il quadro che emerge dall'analisi compiuta dal Cresa nel suo rapporto annuale economia e società in Abruzzo, edizione 2023, con un Abruzzo, come abbiamo anche sentito in questi ultimi commenti, che scivola sempre più verso un passato che la vedeva prima regione del sud, ma allontanarsi sempre più dal resto d'Italia. Questo ampio spaccato legato e dedicato all'economia abruzzese termina qui per quanto riguarda quindi la nostra pubblica di approfondimento i conti in tasca. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana.